Lasciare lo spazio, lasciare i tratturi, lasciare le impervie salite di Chiaromonte, lasciare le scoscese salite del monte su Bappennino, Lucano, stiamo facendo di tutto per dissuadere qualche atleta. Alla patica che venga, allievi, signores, master, maschili e femminili saranno premiati. Saranno premiate inoltre le prime cinque società più numerose con almeno dieci atleti iscritti e che tagliano il traguardo. Buona gara a tutti, buona giornata di festa. Benissimo, grazie, salutiamo Antonella, lei ha detto che l'altra metà l'ha lasciata a casa, complimenti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Vai, Lidia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.